Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video L'udimento di questa settimana è il single dragadiddle, ossia un paradiddle col drag Tatacatatacatacacca Sostituiamo la prima nota del paradiddle, quindi quel pa, diventa un drag Tatacatatacacatacacca ossia raddoppiamo la prima nota Tatacatatacacatacacca Single dragadiddle Drag sinistra, destra, destra Drag con la sinistra, destra, sinistra, sinistra Vi ricordo che questo è il Raffae Saini 40 Weeks Rudiment Challenge ossia andrò a fare in 40 settimane tutti i rudimenti applicati sulla batteria Posto ogni settimana qui su YouTube un rudimento applicato minimo in 7 modi diversi Buona visione e a presto Autore dei sottotitoli a new Nurse A presto Buona vita A presto Lamaya Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.